Martedì 1 marzo, sono le 12 in punto, buongiorno a tutti, ben ritrovati al nostro consueto quotidiano appuntamento con l'informazione del Veneto, dal Veneto, Focus TG, siamo in diretta e resteremo in diretta per tenervi informati fino alle 13.30, puntata quella di oggi straordinariamente ricca di collegamenti e di contenuti perché insomma oltre chiaramente a dare ampio spazio a quello che sta succedendo nello scacchiere internazionale con la guerra russo-ucraina e con le ripercussioni nel nostro territorio, parleremo dell'accoglienza dei profughi, parleremo dei risvolti che appunto la guerra sta avendo e sta creando per quello che riguarda l'economia, per quello che riguarda anche l'impatto con la sanità, col mondo ospedaliero in Veneto, dicevo oltre quindi alle tematiche di guerra, di economia e di sanità, parleremo tanto anche del caro Bollette, parleremo di come le nostre aziende, di come i nostri artigiani stanno cercando di far fronte a queste difficoltà e poi insomma tanta cronaca, tanta attualità in compagnia in questa prima parte di Focus Tg di un graditissimo ospite, è qui con noi l'onorevole Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, buongiorno onorevole. Sì, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Onorevole, le chiedo, visto che poi con lei svilupperemo proprio l'argomento legato al caro Bollette, alle difficoltà insomma che stanno attanaiando i nostri piccoli grandi imprenditori, le chiedo di assistere, insieme a noi ci spostiamo, usciamo dal nostro studio, andiamo a Cassola dove vedo collegata la nostra collega Sharon Di Carlo per entrare in un mondo che insomma sta sicuramente soffrendo del rincaro dei costi e delle materie prime, quello delle vetrerie, un settore che insomma finora non avevamo approfondito e oggi insomma siamo a Cassola con Sharon Di Carlo. Buongiorno Sharon. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori, come vedete siamo in un'azienda del territorio perché Rete Veneta si sta occupando del caro Bolletta, dando voce a tanti imprenditori, tanti artigiani che in questo momento stanno vivendo un momento di difficoltà. Siamo stati nei giorni scorsi nel reparto produttivo della ceramica, il distretto della ceramica di 9, abbiamo visto quanto i forni incidono sulla bolletta di fine mese, pezzi triplicati e oggi ci siamo stati in un altro settore, quello delle vetrerie, vi do un dato, la produzione del vetro è aumentata del 70% in un anno e oggi siamo appunto un'azienda del territorio qui a Cassola in compagnia del signor Paolo Zen, titolare appunto dell'azienda, questa non è un'azienda produttiva ma un'azienda di lavorazione del vetro, ma comunque chiediamo qual è la situazione, qual è appunto la situazione nella sua azienda oggi? La situazione nostra in questo momento non è proprio gravissima, però purtroppo ci troviamo con un problema che è appunto la guerra in quanto l'indice del gas sta aumentando in maniera esponenziale ed è fissato negli ultimi tre giorni del mese e ci porterà a un aumento che sembra del 45% sul costo del vetro per il mese prossimo, speriamo che le aziende produttrici del vetro che sono gestite da poche multinazionali riescano ad assorbire questo aumento, i prezzi non li sappiamo in questo momento ma li sapremo nella prossima settimana. Un grande punto interrogativo, però quali sono le materie prime che avranno questi costi esponenziali di cui voi avete bisogno? Le materie prime che producono il vetro sono la dolomia e la silice, però per produrre il vetro sappiamo che serve una quantità enorme di gas ed energia elettrica, i forni in Italia non sono tantissimi perché ce ne sono circa 5 o 6 che producono il vetro, però adesso staremo appunto a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, però chiaramente per i trasformatori del vetro sarà una bella incognita e indubbiamente per chi gestisce forni soprattutto della tempera sarà un grosso problema in quanto il costo energetico è più che raddoppiato. E nel suo caso quindi, quali pensa che saranno i numeri differenti rispetto ai mesi precedenti? Ma i numeri saranno, staremo un po' a vedere, però sicuramente saranno preoccupanti, ma sarà un'incognita, non lo sapremo perché è tutto da vedere, vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Chiaramente che se mi proporrò ai miei clienti con un aumento di botta del 45% saranno veramente preoccupanti. Anche perché voi avete ordini già dal 2021? Ma no, noi purtroppo non lavoriamo con ordini a lungo termine, ma lavoriamo con ordini quindicinali. Chi ha ordini sicuramente, ha portafogli ordini a lungo termine, si troverà con dei grossi problemi perché sicuramente non riuscirà a fare aumenti sostanziali così. E qual è la soluzione secondo lei? Cosa bisognerebbe fare per evitare un cuscinetto? Quale potrebbe essere in questo momento per il futuro? Ma secondo me un cuscinetto non esiste. L'unica soluzione sarebbe innanzitutto che finisse la guerra nell'immediato. Anche perché purtroppo noi per l'energia, per l'energia elettrica dipendiamo pochissimo, di interna non se ne fa, se ne fa molto poca, sicché l'acquistiamo dall'estero. Il gas principalmente arriva dall'estero, sicuramente dovremmo trovare il sistema di essere molto e molto più autosufficienti, sicché dovremmo aprire nuove centrali e produrre sicuramente più gas a nostro anno. Alex, qui le domande sono finite. Se hai qualche domanda tu da studio, altrimenti ti do la linea. Ti ringrazio, ringrazio te, il tuo ospite e Andrea Benetti per il vostro collegamento. Noi rientriamo in studio e ci diamo subito la parola all'onorevole Paolo Borchia. Onorevole, ha sentito questa testimonianza non drammatica come invece in altre realtà che hanno costi sicuramente diversi e difficoltà sicuramente diverse, però mi ha colpito una frase del nostro ospite in collegamento appunto dalla vetreria di Cassola, soluzioni, cuscinetto non ci sono, cosa si può fare? Questa è una testimonianza del Paese Reale, delle difficoltà che quotidianamente i nostri imprenditori stanno vivendo. Poi abbiamo sentito dalla testimonianza del signor Paolo che oggettivamente non tutti hanno la possibilità di scaricare l'aumento dei costi dell'energia sui prezzi che poi vanno ad applicare ai clienti. Poi non dimentichiamoci che questa è anche una fase storica molto particolare perché con il bonus, il super bonus del 110% tanti settori effettivamente hanno ripreso vigore, hanno ripreso a consumare, quindi questo ha avuto ripercussioni sia sui costi e sulle reperibilità delle materie prime che su quello che è stato l'impatto assorbito per quanto riguarda l'aumento dei prezzi dell'energia. Un altro fattore che ritengo importante sottolineare, tra una misura e l'altra il governo, insomma, lo dico visto che queste tematiche le seguo quotidianamente, che la Lega ha spinto affinché il governo mettesse in campo risorse adeguate per cercare di dare un minimo di aiuto e di sollievo sia alle imprese che alle famiglie, però tra un provvedimento e l'altro abbiamo messo in fila 17 miliardi e 200 milioni di euro, che sono cifre che a livello di finanza pubblica sono delle cifre gigantesche. E io trovo spaventoso, ripeto spaventoso, il fatto che nonostante siano state impiegate queste sostanze, effettivamente nella quotidianità sia delle imprese che delle famiglie si fa fatica a percepire quello che è stato lo sforzo del governo, quindi questo ci fa capire quanto questa crisi energetica stia impattando sulla nostra quotidianità. Poi per il resto, chiaramente il signor Paolo dalla sua attività ha toccato quello che è un tasto che sarà fondamentale per il futuro, vuole dire quello di una maggiore sovranità energetica, indipendenza energetica, autonomia energetica, chiamiamola come vogliamo, del nostro Paese. Noi attualmente siamo la terza manifattura dell'Unione Europea, non possiamo assolutamente permetterci di essere quasi totalmente dipendenti dalle importazioni dell'energia dall'estero, anche perché vediamo adesso in una fase di perturbazione internazionale quanto ci sta costando la crisi russa, almeno sotto il profilo delle forniture di gas. Esistono alternative? Sì, le alternative esistono, ma chiaramente bisogna essere in grado di agire sia nell'immediato ma anche sul lungo periodo, anche perché a mio modo di vedere, se ci troviamo in questa situazione è perché negli ultimi decenni in Italia non è stato fatto nulla a livello di politica industriale e energetica, per cui paradossalmente andiamo a guardare a pochi chilometri da noi, nell'Adriatico abbiamo una Croazia che sta sfruttando quelli che sono i giacimenti di gas, mentre l'Italia non lo sta facendo, per cui da questo punto di vista ci sono grossissime contraddizioni, come grossissime contraddizioni ci sono sul tema del nucleare. La Francia ha oltre una cinquantina di centrali nucleari, tra l'altro anche abbastanza datate, che stanno producendo quotidianamente energia, per cui fondamentalmente il nostro paese che nel 1987 tramite un referendum che è stato inevitabilmente condizionato da quello che era successo a Chernobyl ha deciso di voltare pagina, ha deciso di dire no al nucleare, paradossalmente però importiamo energia dalla Francia che è a tutti gli effetti produttrice di nucleare e soprattutto esportatrice netta di energia, per cui di energia e anche di energia elettrica ovviamente prodotta con il nucleare, per cui fondamentalmente si è assistito a un cortocircuito, la contraddizione a mio modo di vedere è molto ma molto evidente, per cui adesso penso che la fase storica sia quella più adatta per iniziare a lavorare, ma ripeto sia sul breve periodo sia sulle soluzioni di prospettiva. Si dice che il nucleare di quarta generazione non è una tecnologia che sarà pronta domani, è verissimo, serviranno 25-30 anni, però è ovvio se adesso iniziamo un percorso magari i nostri figli e i nostri nipoti si troveranno in una situazione di minore dipendenza. Onorevole, la interrompo perché dobbiamo parlare delle energie rinnovabili, assolutamente che è una tematica che in questo momento oltretutto storico, particolare, merita ancora di più di essere approfondita. Dobbiamo anche introdurre alcuni argomenti come appunto quello legato alla piccola artigianalità, all'eccellenza del Veneto e poi insomma parleremo di quello che sta succedendo in Ucraina con le ripercussioni per il Veneto e per l'Italia. Tutto questo però fra due minuti perché adesso andiamo in pubblicità, torniamo subito. 12.14 rieccoci in diretta a Focus Tg, vedete già collegata con noi la nostra collega Valentina Visentin da Padova perché noi qui in studio abbiamo l'onorevole Paolo Borchia per commentare insieme le tematiche del caro energia ma anche delle ripercussioni che ci saranno e che ci sono dopo insomma quello che sta succedendo in questi giorni sullo scacchiere internazionale. Da Padova Valentina Visentin a cui cedo la linea ci porta notizie di cronaca di strettissima attualità. A te la linea Valentina. Buongiorno Alex, come vedete alle mie spalle dalla prefettura di Padova si è appena concluso il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con all'ordine del giorno ovviamente il tema dell'accoglienza dei profughi in Ucraina. Il prefetto ha convocato non solo i rappresentanti del comune e della provincia ma anche l'USLE, le presidenti degli industriali Leopoldo Destro e appunto tanti esponenti della società civile e del volontariato perché siamo pronti a far rete, ha detto il prefetto, qualora si manifestassero le necessità di accoglienza dei profughi che stanno scappando dalla Russia. Parliamo di donne e di bambini che sono in coda, in cammino lungo il confine dell'Ucraina verso gli altri stati vicini e abbiamo tra altre cose pochi minuti fa a Rubano al seminario minore sono arrivati i primi 63 bambini in fuga dalla guerra. Si tratta di bambini che erano ospiti di una struttura di accoglienza di due orfanatrofi di Leopoli che erano già in contatto con alcune famiglie padovane che li accolgono qui d'estate per quei percorsi di recupero dei bambini di Chernobyl e quindi i bambini hanno chiamato per chiedere aiuto, si è subito messa in moto la macchina della solidarietà, la diocesi che ha messo a disposizione ovviamente il seminario minore e in poche ore i bambini sono arrivati qui a Rubano al seminario, stanno tutti bene anche se sono ovviamente molto stanchi e provati da questo viaggio, sono arrivati a piedi al confine, ci hanno raccontato ma appena sono stati rifocillati, hanno potuto dormire al caldo dei pulmi hanno recuperato le forze, è subito scattata la macchina della solidarietà perché tanti generi di prima necessità, coperte e giocattoli anche sono stati subito portati al seminario e la diocesi infatti ha ringraziato molto perché è stata veramente sommersa da tanto umanità, da tanto aiuto da parte della comunità padovana. Grazie mille, grazie mille Valentina Visentin per la tua puntuale testimonianza, ti lasciamo al tuo lavoro, noi rientriamo in studio. Onorevole, abbiamo sentito anche appunto quello che ci ha raccontato la nostra collega da Padova, è scattata una vera e propria macchina pieno regime per quello che riguarda la solidarietà nei confronti di donne e bambini provenienti dall'Ucraina. Due immagini, la prima immagine molto commovente perché purtroppo ci si dimentica che a livello globale i conflitti sono tanti, i bambini sono le prime vittime anche perché oltre a quello che stanno patendo nell'immediato e l'abbiamo sentito durante questo collegamento, poi ci sono anche le repercussioni che si porteranno appresso durante la fase di crescita, quindi lo dico da padre di un bambino piccolo, questa è l'immagine più commovente. L'altra immagine è quella di un Veneto che risponde, di un Veneto solidale, un Veneto col cuore, un Veneto che riesce a dare il meglio di sé. Poi chiaramente al di là degli aspetti magari un po' più emotivi, poi va fatto un ragionamento anche sulla quotidianità, sui temi pratici, sui temi burocratici e chiaramente adesso ci stiamo avviando ad una fase dai contorni molto incerti, incerti dal punto di vista dei tempi, dal punto di vista del numero delle persone da accogliere, anche perché quando si parla di esseri umani è sempre brutto parlare di numeri, però poi chiaramente bisogna anche fronteggiare quelle che sono le problematiche a livello organizzativo. Io innanzitutto mi auguro che per una volta i nostri sindaci non siano lasciati da soli, ma che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i livelli, perché chiaramente l'accoglienza in questo frangente è un aspetto positivo, però poi non dimentichiamoci di chi sta sul territorio a risolvere i problemi, quindi ci saranno molte riflessioni da fare, ci sarà tanto lavoro da fare, ma ripeto l'accoglienza di questa fase è un valore che non deve essere in discussione. Ha toccato un tasto importante perché è quello di dare vicinanza alle amministrazioni locali, perché ricordiamo tutti le prime fasi dell'emergenza pandemica quando tanti sindaci ci avevano proprio manifestato, anche ai nostri microfoni, di sentirsi abbandonati, di sentirsi soli dalle istituzioni, un errore che sicuramente non bisogna ripetere. Torniamo però onorevole al filone legato alle problematiche per quello che riguarda i costi di energia, di gas e quant'altro, le ripercussioni che ci sono, prima di cercare di approfondire quello che sta succedendo in Ucraina e quello che potrebbe poi succedere, ripercuotersi nel nostro territorio. Avevamo iniziato a parlare dei possibili soluzioni, il tema delle energie rinnovabili, alla luce anche delle risorse che ci sono. Possiamo dire brutalmente che questa è forse l'occasione per spingere ancora di più in quella direzione. Su questo tema cerco di essere sempre molto schietto. Chiaramente le rinnovabili hanno un potenziale che è da sviluppare, però dobbiamo essere in grado di avere in testa i numeri, le opportunità, però anche i limiti. Ogni tanto mi confronto qualcuno che pensa che basti tappezzare i tetti di questa regione, di questo paese con i pannelli fotovoltaici, i problemi si risolvono. Purtroppo le cose non stanno così. Le rinnovabili sono energie pulite, non emettono anidride carbonica, per carità però chiaramente il nostro paese ha alcuni limiti. Pensiamo ad esempio all'eolico offshore, quindi le pale che vengono installate nei fondali marini. A differenza ad esempio del mare del nord, i nostri fondali non hanno le caratteristiche che fanno sì che questo tipo di tecnologia sia applicabile ovunque nel nostro paese. Poi non dimentichiamoci che l'idroelettrico, che invece è un'altra fonte che avrebbe grossi margini di sviluppo in Italia, al contrario sono un po' più condizionata dal fatto che purtroppo in Italia abbiamo delle concessioni che rispetto all'estero sono molto più brevi, molto più corte e quindi di conseguenza vanno a disincentivare chi investe nelle dighe della situazione. Poi chiaramente io ritengo che vadano fatti dei passi in avanti però avremo sempre bisogno di altre fonti alternative come ad esempio il gas naturale, il metano, il gas naturale liquido. Però anche in questo caso in Italia abbiamo soltanto tre rigassificatori. I rigassificatori sono gli impianti che fanno sì che questo gas che arriva prevalentemente dagli Stati Uniti, dal Qatar, dall'Arabia Saudita, dalla Nigeria, attraverso delle navi poi vengano portati allo stato gassoso. Però, ripeto, in Italia avevano soltanto tre infrastrutture, avremmo bisogno almeno di cinque per riuscire ad affrancarci maggiormente dal gas naturale. Per cui fondamentalmente, come ho avuto modo di anticipare poc'anzi, serve una strategia in grado anche di delineare quelle che saranno le soluzioni per i prossimi anni. Onorevole, l'ipotesi ventilata dal Premier Draghi di riattivare le centrali a carbone? A mani estremi, estremi rimedi. Poi, chiaramente, io confrontandomi sulle tematiche energetiche quotidianamente a livello europeo, già si fa fatica a sdoganare il gas, che è un tipo di fonte a basso tenore di emissioni. Il carbone, al contrario, è una fonte di produzione dell'energia estremamente inquinante. Per cui, chiaramente, se andiamo nella direzione di avere la necessità di tornare ad aumentare la capacità produttiva a carbone, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Poi, chiaramente, lo ripeto, ma gli estremi, estremi rimedi. Tra l'altro, siamo anche stati abbastanza fortunati che, nonostante gli aumenti dei prezzi, le ultime settimane, in generale l'inverno, non sono stati particolarmente rigidi, per cui c'è stato un consumo di gas che non è andato ad intaccare in maniera eccessiva le riserve, evitando quindi ulteriori aumenti. Stiamo assistendo a un fenomeno un po' particolare, forse anche perché siamo reduci da due anni di pandemia che ci hanno sicuramente provato, perché in Italia è corsa all'acquisto dei bunker, ad esempio, un allarme che, insomma, in molti hanno reputato ingiustificato. Però, insomma, la paura della guerra ha portato anche a questo. Fra le paure degli italiani e di tanti veneti che noi abbiamo sentito e che sentiremo, insomma, nei prossimi giorni, c'è anche quella appunto di rimanere senza gas. Allora, le chiedo, onorevole, intanto sono arrivate ampie rassicurazioni che le scorte ci sono, che eventualmente siamo coperti anche per il prossimo inverno, ma effettivamente qual è la reale situazione qui da noi nel nostro paese? C'è effettivamente il rischio di ritrovarci con delle riserve ridotte? Ieri, ad esempio, il ministro Di Maio ha parlato di incrementare i rapporti, la partnership con l'Algeria. Insomma, l'Italia fa davvero così tanta fatica a essere autosufficiente? Innanzitutto, come in qualsiasi azienda, anche sul tema gas, il nostro paese si deve rendere conto che servono più fornitori, sia per una questione di contratti, quindi per riuscire a spuntare dei prezzi migliori, sia per una questione di sicurezza energetica, per cui chiaramente noi abbiamo la TAP, che è il gasdotto, che porta il gas dagli giacimenti del Mar Caspio, quindi dell'Azerbaijan fino alla Puglia, riceviamo gas dalla Libia, dall'Algeria, ci sarebbe la possibilità di sfruttare in maniera più convinta i giacimenti del Mediterraneo orientale, sotto la giurisdizione di Israele, quindi le soluzioni sicuramente non mancano. Poi chiaramente il tema delle scorte, innanzitutto è un tema che ha delle ripercussioni su quelli che sono i prezzi, poi in secondo luogo, fino a non tantissime settimane fa non ero sicurissimo che le scorte a disposizione in caso di conflitto tra la Russia e l'Ucraina potessero essere sufficienti. Adesso fortunatamente, l'ha detto anche nelle scorse ore il Ministero per la Transizione Ecologica, chiaramente il livello delle scorte sì è preoccupante, però non ci dovrebbe essere rischio di rimanere al freddo o senza gas. Però a questi campanelli d'allarme ogni tanto bisognerebbe anche avere la possibilità e la capacità di riuscire ad ascoltarli e soprattutto di andare a individuare dove si è sbagliato, sia nel presente che nel passato. Onorevole, siamo in chiusura di questa prima parte di Focus Tg. Prima di salutarla, una riflessione, come dicevamo, per chiudere un attimino il cerchio in base anche a come abbiamo iniziato questa nostra puntata di oggi. I piccoli artigiani, le difficoltà che non riguardano le grandi aziende, le grandi industrie, ma proprio i ceramisti, piuttosto che coloro che devono far fronte, magari un'azienda familiare eccetera eccetera, a tutti questi rincari, a tutte queste problematiche, che tipo di aiuto, come possono essere supportate? Innanzitutto io sono meravigliato dalla capacità di resistenza che hanno dimostrato i nostri imprenditori, però dall'altro lato non è che possiamo continuare all'infinito a pretendere che chi fa impresa in Veneto e in questo paese continui a fare miracoli. Chiaramente dopo la pandemia, dopo le chiusure, l'aumento dell'elettricità, del gas, dell'inflazione, adesso il conflitto, oggettivamente mi sembra che in questo contesto si siano allineati una serie di elementi molto negativi che fanno sì che veramente fare impresa, se negli ultimi anni è sempre stato un atto di eroismo, adesso veramente non so più come definirlo, ma direi il primo step innanzitutto è riuscire ad abbassare la struttura dei costi, chiaramente si è parlato del costo del lavoro per tanti anni, abbiamo visto che in Italia purtroppo la politica ha sbagliato perché si è andati a fare la scelta di andare a colpire fiscalmente quello che era il lavoro, poi abbiamo visto le conseguenze con tante realtà che in alcuni casi sono state costrette a delocalizzare, poi qualcuno ha fatto scelte diverse di andare a produrre in altri paesi soltanto per ragioni di profitto, però non dimentichiamoci che qualcuno è stato proprio costretto a fuggire da un sistema fiscale eccessivamente oppressivo. Poi in secondo luogo chiaramente c'è la tematica dell'autonomia energetica, adesso era stato pubblicato pochi mesi fa dalla CGA di Maestre uno studio, purtroppo le piccole e medie imprese italiane e sappiamo benissimo qual è la dimensione delle imprese in Veneto pagano rispettivamente la seconda e la terza bolletta, pagavano la seconda e la terza bolletta per quanto riguarda i prezzi del gas e dell'elettricità, per cui fondamentalmente con dei costi dell'energia così alti, dei costi della mano d'opera così alti, poi diventa anche difficile andare sui mercati esteri e riuscire a competere con le imprese dei paesi vicini, per cui fondamentalmente il costo del lavoro e i costi dell'energia ritengo che siano le prime due voci prioritarie sulle quali lavorare per cercare di restituire competitività ai nostri imprenditori. E allora, noi ringraziamo per essere stato in nostra compagnia l'onorevole Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. Onorevole, la ritroveremo sicuramente più avanti perché il tema insomma delle energie e del caro bollette, insomma sono temi con cui è sempre un piacere confrontarsi con lei. Grazie per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro. Noi adesso vi lasciamo per due minuti pubblicità e poi tutti gli altri servizi che riguardano appunto la tematica dell'arrivo dei profughi ucraini nel nostro territorio, cosa sta succedendo sullo scacchiere internazionale, ancora tante testimonianze, cronaca, attualità e poi l'ultima parte del Focus TG che è sempre quella un po' più leggera con il carnevale e insomma tante piccole notizie che speriamo ci possano far tornare un po' di buon umore. A dopo. 12.33 Focus TG, siamo in diretta, lo saremo per circa un'altra ora, un'ora ricca di contenuti, di notizie, di servizi. Nella prima parte del nostro Focus di oggi abbiamo avuto ospite l'euro parlamentare Paolo Borchia con cui insomma abbiamo toccato tematiche importanti dalla guerra alle ripercussioni per quello che riguarda il gas e le forniture di gas in Veneto e in Italia e poi abbiamo parlato del caro Bollete con un collegamento della nostra collega Sharon Di Carlo da una vetreria di Cassola, un comune poco distante da Bassano insieme a un imprenditore che ha raccontato insomma delle sue difficoltà. E allora adesso continuiamo a parlare di tematiche di strettissima attualità legate insomma inevitabilmente a quello che sta succedendo in Ucraina perché insomma sono partiti i primi aiuti e sono arrivati i primi profughi in fuga, soprattutto donne e bambini dai territori dove insomma sta andando in scena questo conflitto. Ebbene nella marca sono arrivati appunto i primi ucraini in fuga, vediamo tutto in questo servizio. Questa mattina si sono presentate in prefettura 10 persone e abbiamo invitate a presentarsi in questura per regolarizzare innanzitutto la loro posizione, devono essere quindi identificate e poi offriremo loro accoglienza presso il CAS, presso la caserma Serena e nel frattempo continuiamo la ricerca di disponibilità alloggiative sul territorio anche con l'ausilio di enti assistenziali. Sono 10 donne ucraine le prime profughe che stamane si sono presentate in prefettura per chiedere informazioni ed aiuto. Anche in provincia di Treviso la macchina della solidarietà pubblica si è messa in moto attraverso un confronto tra il prefetto e di sindaci dei principali comuni. Treviso, Castelfranco, Conegliano, Montebelluna, Oderzo, Vittorio, Veneto. Si stanno verificando le possibilità di accoglienza anche se in questo momento non si sa quante persone giungeranno né quali saranno le loro esigenze. Si presume che molti dei profughi in arrivo abbiano una rete di ricongiungimento presso parenti o amici. Gli altri verranno accolti nelle strutture dei comuni e della prefettura come le 10 donne che saranno ospitate all'ex caserma Serena nel corpo separato che accoglieva le famiglie afghane. Stanotte nel frattempo a Godega è arrivata la famiglia ucraina di 6 persone ospitata dall'imprenditore Sandro Bottega che aspetta nei prossimi giorni un'altra cinquantina di persone. Fondamentale, sottolinea il prefetto, che chi arriva denunci la propria presenza sia per regolarizzare la posizione sul territorio nazionale sia per avere garantita l'assistenza sanitaria. Per questo al vertice era presente anche il direttore generale dell'ULS2. Perché ovviamente le persone che entrano sul nostro territorio e poi vengono accolte indipendentemente se sia una struttura pubblica o anche privata vanno sottoposte a quegli accertamenti che sono necessari ai fini della prevenzione del Covid-19. Intanto con i sindaci si stanno censendo le possibili soluzioni di ospitalità dei profughi ucraini. Ci stiamo preparando per accogliere nel migliore dei modi queste persone. È fondamentale che ci sia un protocollo sanitario, che ci sia un protocollo di accoglienza e un protocollo anche di registrazione di queste persone non tanto per la volontà di controllarle ma per avere la consapevolezza di quante persone abbiamo nel nostro territorio e di quelle che sono le loro esigenze. Anche in questo caso i sindaci sono al centro di questa operazione umanitaria. Lo facciamo consapevoli di rappresentare delle comunità che mettono al centro del loro vivere quotidiano la solidarietà. Ed è scattata la solidarietà in tutto il Veneto. Lo abbiamo raccontato, ce lo ha raccontato anche la nostra collega Valentina Visentini in collegamento poco fa da Padova. Proprio nel Padovano è previsto l'arrivo di 65 bambini ucraini proprio in queste ore che verranno accolti in una struttura messa a disposizione dalla diocesi di Padova. I peluche disposti con cura sopra i letti e qualche palloncino di benvenuto. Tutto è pronto al seminario minore di Rubano per accogliere 65 bambini in fuga dalla guerra in Ucraina. Il vescovo di Padova nelle scorse ore aveva dato la disponibilità per ospitare i primi piccoli profughi ed è subito scattata la gara di solidarietà. L'edificio del seminario è stato invaso da borse, di coperte, lenzuole, indumenti e generi per l'igiene personale portate da tantissime persone che attraverso Whatsapp e social network si sono subito attivate per rendere più accogliente l'arrivo di questi 65 bambini che scappano dai bombardamenti russi. Questa è una delle stanze che ieri alcuni volontari hanno allestito per la prima accoglienza dei ragazzi e dei bambini provenienti dall'Ucraina. Ieri è stata anche una giornata in cui tantissime persone hanno manifestato la loro generosità, di questo ne siamo grati, portando tantissimi materiali. Per il momento chiediamo di cessare questa manifestazione grande di effetto e di generosità perché siamo per il momento a posto. Indicheremo eventualmente più avanti alcune altre bisogni e necessità. È sempre disponibile sul conto corrente della Caritas di Ucesana fare un'offerta con una causale ben precisa emergenza ucraina per appunto dare la propria generosità sia per questo progetto che per altre situazioni di emergenza legate appunto a questa situazione ucraina. I piccoli profughi in queste ore sono arrivati a Varsavia, in Polonia si sta organizzando il loro trasferimento a Padova. L'accoglienza sarà gestita dall'associazione L'Isola che non c'è di Teolo, inserita nel circuito di accoglienza che negli anni Ottanta offrì ospitalità e curò in Italia i piccoli pazienti di Cernobil. E come vi dicevo, la corsa alla solidarietà ha messo in moto tutto il Veneto, tutto il popolo veneto che ha risposto e sta rispondendo in queste ore con una partecipazione, un affetto straordinario nei confronti delle donne e dei bambini che stanno scappando dalla guerra. Adesso vediamo, vi raccontiamo appunto di questa corsa alla solidarietà nel veneziano. Che cosa sta facendo Venezia per l'Ucraina? Vediamo. Mi sono trovata in una situazione molto brutta con la guerra e adesso cerchiamo di fare una raccolta, aiutare il più possibile. Nelia è ucraina e vive da diversi anni nel veneziano. Come molti connazionali, frequenta la chiesa del nome di Gesù in fondamenta Santa Chiara, nella cui parrocchia è stato allestito un centro di raccolta di aiuti umanitari. Gli apparenti amici in Ucraina? Ho due sorelle di là, che sono anche i militari, fanno parte del militare. Le battaglie continuano forti forti e non ho parole per descrivere tutto quello che sta succedendo in Ucraina. Gli ex compagni di scuola di Nelia ci racconta sono tutti o quasi tutti partiti per il fronte. Una signora entra in parrocchia per chiedere di quali generi alimentari ci sia più bisogno. La risposta è che più che di cibo c'è necessità di garze ed elastici per fermare le emorragie di sangue. Spaventosa questa cosa, non ci sono parole di fronte a questa cosa. Chiaro che possiamo fare poco da qua, ma quello che si può credo sia giusto farlo. E andrò in farmacia a comprare? Adesso vado in farmacia e poi andrò qui al supermercato vicino. Accanto a Nelia c'è Natalia. In Ucraina ha il marito e due figli. Al telefono le dicono che la situazione dove stanno loro è relativamente tranquilla, ma lei non ci crede. Lo dicono solo per non farla preoccupare. Il suo desiderio quale sarebbe? Quello di farsi raggiungere da suo marito e dai suoi figli qui in Italia. Loro neanche non pensano di venire qui, loro dicono che se in questa situazione andiamo a fare guerra di difendere la nostra patria, che non vogliamo scappare dal nostro paese. Vogliono difendere. Un'altra signora entra a donare generi alimentari. Ha saputo di questo punto di raccolta con un passaparola che ora sta aiutando anche lei a diffondere. Quelli di Venezia, Centro Storico, Lido e per quanto riguarda invece la raccolta Marghera, per quelli di Terraferma, Mira e Rivera del Brenta. E oggi è un ping pong continuo fra lo studio e i collegamenti sul territorio. Dal territorio per portarvi proprio la voce dei nostri cittadini, la voce dei nostri telespettatori. Io vedo collegato adesso da Vicenza il nostro collega Daniele Garbin che è pronto con un ospite. A te la linea Daniele. Adesso ti sentiamo perfettamente. Sì, ecco, grazie Alex. Buongiorno a tutti i telespettatori. Sono in compagnia di un ospite, la signora Remila Fanton dell'associazione Il Ponte. Buongiorno. Del Ponte di Caldogno. Praticamente questa associazione si occupa di aver ospitato in passato e avrebbe continuato a fare, se non ci fosse stato il Covid, dei bambini di Chernobyl. Ecco, lei è qui proprio perché è testimone della situazione in cui, essendo in contatto ancora con i bambini che sono venuti qui in Italia, ospitate nelle famiglie che la signora si è occupata anche di organizzare, assiste in continuazione quello che stanno vivendo i loro bambini, perché effettivamente è così, i loro bambini che sono sotto le bombe che stanno proprio rifugiandosi sotto lo scantinato. Eccolo, diciamo dire a lei proprio perché è una testimonianza in prima mano. Allora, questi bambini che noi ospitiamo adesso sono là, alcuni sappiamo che sono vivi, sono rifugiati nei sotterranei, nei bunker, in condizioni abbastanza disperate. Hanno il cibo, questo ce l'hanno garantito e per noi questa è una grande soddisfazione. è una grande notizia. Alcuni sappiamo che sono nascosti, però non sappiamo dove, sono da soli. Alcuni si sono imbarcati in qualche treno, in qualche corriere, in qualche pullman, tentano in qualche modo di fuggire. È una situazione abbastanza drammatica. E i bambini di istituto, di orfanatrofi, ce ne sono tantissimi, tantissimi. Il nostro progetto è di riniziare a farli venire in Italia, quanto prima. Adesso se troviamo un canale per poterli portare, li portiamo, ma è tutto molto difficile perché alcuni sono di Kiev e di Kiev è difficile uscire perché è circondata. Penso che Putin miri a conquistare Kiev. Noi speriamo che questa guerra finisca quanto prima perché chi ci sta rimettendo più di tutti sono i bambini. I bambini vengono spostati dagli istituti, vengono evacuati questi istituti, però per quanto continueranno a scappare, per quanto si possono nascondere, questo non lo sappiamo. Ecco, Alex, infatti il tema è la testimonianza di una delle tante associazioni che si stanno occupando. In questo caso, poi sentiremo anche nel corso della giornata, lo anticipo già, la Croce Bianca di Grisignano. Mi diceva la signora Remila che anche lei è volontaria per quella parte, che stanno raccogliendo materiale da inviare e portare su, proprio l'acimo statici, i gazze, tutta una serie proprio di... c'è un elenco che poi ci racconteranno. Ci sta muovendo, l'associazione è un po' in tutti i settori del Vicentino, era proprio per raccontare una esponente, ma proprio non ci sono solo i canali ufficiali, sappiamo che in prefettura ci dovrebbe essere un incontro tra prefetti proprio per coordinare tutte queste azioni dall'alto. Ecco, ma dal basso veniva proprio chiesta il coordinamento, ieri per Sanito Rucco che si occupava di raccogliere le disponibilità. Ecco, in questo caso è proprio questa la disponibilità, vero? Sì, noi sappiamo che se i bambini arrivano siamo disposti ad accoglierli nelle nostre famiglie, qualsiasi siano i bambini, non necessariamente della nostra associazione, perché sono bambini che hanno bisogno di aiuto e noi siamo disposti ad aprire le nostre case. Come comunità, anche dei nostri piccoli comuni, con il comune, con il sindaco, i parroci, ci stiamo attivando per procurare spazi, stanze, case in disuso, canoniche in disuso, per poter dare ospitalità a bambini, profughi, chiunque arrivi e chiunque abbia bisogno di aiuto. Bene, Alex, lusso. Grazie, no, grazie Daniele, grazie a te, grazie alla tua ospite. Questa è l'ennesima testimonianza di quello che stiamo raccontando, di come la corsa alla solidarietà sia partita, sia attiva e sia propositiva più che mai. Grazie, Daniele, per il tuo collegamento, grazie alla tua ospite. Grazie a te, buona giornata. Buona giornata al collega Daniele Garbina. Adesso noi andiamo in pausa, piccola pubblicità, torniamo subito perché abbiamo dei collegamenti da Padova, da Venezia, dobbiamo parlare anche del Carnevale, perché oggi è martedì grasso. Insomma, ancora tanto da raccontarvi fra poco. 12.49, Focus TG in diretta dal Veneto per raccontarvi tutto quello che è successo e sta succedendo nel nostro territorio. Ebbene, tanti collegamenti avete visto nella nostra edizione odierna, tanti approfondimenti. Fra poco saremo a Padova, poi a Venezia. Intanto però diamo, facciamo una piccola parentesi dedicata alla sanità, dedicata al consueto quotidiano report di Azienda Zero per quello che riguarda l'andamento del contagio in Veneto. Ebbene, guardiamo insieme il report che appunto l'Azienda Zero ci ha fornito oggi. Lo ricordiamo, è una fotografia dell'andamento dei contagi, delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive nelle ultime 24 ore. Ebbene, continuano a scendere, anche se di poco, ma comunque si assestano intorno a poco più di 4.000 il delta dei positivi giornalieri. Oramai, insomma, non so se lo ricordate tutti, ma un mese fa eravamo qui insieme a parlare di poco meno di 20.000 nuovi contagi al giorno. Era fine gennaio, metà fine gennaio, quindi un mese, un mese e mezzo fa. Adesso la curva dei contagi fortunatamente è precipitata da ieri. A oggi 4.447 nuovi positivi che fanno numero all'interno dei casi attualmente positivi che in Veneto sono poco più di 52.000. Anche questo un numero drasticamente ridotto. A gennaio superavamo abbondantemente i 100.000 positivi in Veneto. Quindi 52.000 gli attualmente positivi, 4.447 il delta, da ieri a oggi dei nuovi casi di positività. Andiamo a guardare insieme gli altri numeri che ci interessano, sono quelli delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive. Ebbene, le ospedalizzazioni, altro crollo importante, meno 48 ricoveri in area non critica nelle ultime 24 ore. Quindi, insomma, un dato che sicuramente porta un po' di buon umore in questi giorni così difficili. Non è certamente facile per nessuno uscire, iniziare a uscire dal tunnel della pandemia e ritrovarsi a commentare fatti di cronaca che hanno a che fare con guerra, con morti, con donne e bambini in fuga dall'Ucraina. Dicevamo, insomma, un piccolo motivo per sorridere, è appunto il dato delle 48 ospedalizzazioni in meno salgono di quattro unità le terapie intensive e purtroppo dobbiamo constatare il decesso nelle ultime 24 ore di 14 persone. Proprio per fare un attimo il punto aggiornato sulla questione Covid, vediamo il prossimo servizio. 989 persone, non sono tante rispetto ai grandi proclami che ho sentito dire in questi mesi, che il problema non era il vaccino ma era l'RNA messaggero. Voglio ricordare che oggi abbiamo Novavax, abbiamo migliaia di dosi, se qualcuno vuole farsi vaccino può vaccinarsi in tempo reale presso i centri vaccinali. Una media di 100 vaccinazioni per provincia, 989 inoculazioni con Novavax, il siero che avrebbe dovuto convincere gli irriducibili non decolla e si ferma a poche centinaia di dosi. Rischia di fermarsi dunque all'89,3% la copertura vaccinale in Veneto, un dato valutato comunque positivamente dal presidente Luca Zaia che, tradotto, conta almeno 9 cittadini su 10 protetti. La percentuale dei bambini nella fascia 5-11 si ferma invece al 32,8%. Ma che il vaccino debba ritenersi la nostra arma contro il Covid non v'è però per Zaia dubbio alcuno. A confermarlo è il modello matematico predisposto in regione che ha monitorato l'andamento dei dati tra contagi e ospedalizzazioni. Messe accanto alle curve dei ricoveri 2020-2021, 2021-2022 rivelano la forza dei vaccini. Queste sono le curve dei ricoveri confrontate 2020-2021-2022. La blu è quella di oggi. Si va verso un dimezzamento ancora nei prossimi sette giorni. Andremo sotto i 1.000 ricoverati, andremo decisamente sotto le 60 unità in terapia intensiva. Consideri che il massimo raggiunto nella storia del Covid in Veneto sono state 4.000 persone ricoverate e oltre 500 in terapia intensiva. Oggi ne abbiamo 98 in terapia intensiva e 1.048 in area medica. Nell'ultimo mese il Veneto è tra le regioni con l'incidenza più bassa a livello nazionale. E noi, dopo la parentesi doverosa sul Covid, dopo gli approfondimenti della nostra prima parte di Focus Tg, continuiamo a parlare delle difficoltà di alcuni settori specifici dovute al caro bollette, ma soprattutto al rincaro delle materie prime. Il comparto agricolo sta affrontando sicuramente un momento molto complicato dopo l'esplosione dei costi delle materie prime e risente indubbiamente dei venti di guerra che soffiano dall'Europa. Vediamo. La guerra, le bollette alle stelle, rincari enormi nel costo delle materie prime. Coltivatori e allevatori del Bassanese devono affrontare un momento storico estremamente complicato. Stavamo vivendo già una situazione difficile con i prezzi alle stelle. Adesso, da quando è cominciata la guerra, sono ulteriormente aumentati i prezzi dei mangimi, ma si soglia in primis. Diciamo che non ci volevano. Il periodo negativo si innesta su una situazione già difficile. Banale dirlo, ma la guerra è sbagliata di per sé. In più si porta dietro anche questi strascichi economici che mettono in serie difficoltà le nostre aziende, che già strutturalmente non stavano vivendo di certo un buon periodo. Il rischio di perdere per strada pezzi importanti del tessuto produttivo del comparto agricolo è molto alto, già nell'immediato futuro. Il rischio c'è, è reale, cominciamo a toccarlo con mano. C'è il grosso problema dei concimi. La Russia è un grosso esportatore di concimi e con l'embargo che sta arrivando metterà in serie difficoltà le produzioni del vicentino. Gli agricoltori e le associazioni di categoria rivolgono quindi una richiesta al governo. Sarebbe magari opportuno ripensare un po' anche quella che è la legge italiana, nel senso che sarebbe arrivato il momento di equiparare i concimi chimici con quelli naturali. Già questa storia grida un po' vendetta di per sé, perché i concimi naturali, come i refri zootecnici, hanno delle limitazioni maggiori. Penso che sia arrivato il momento di portare avanti anche questa questione che potrebbe in parte dare un sospiro di sollievo al mondo dell'agricoltura. E c'è anche qualcos'altro che tutti possiamo fare. L'appello degli elevatori e di chi vive in generale del settore primario è di rivolgere la propria attenzione alle produzioni locali. Ovviamente è anche il momento di stringerci attorno e fare lo sforzo di aiutare un po' quella che è l'economia del territorio. So che non è facile, il periodo è complicato per tutti, imprese, famiglie insieme, però altre soluzioni nel breve periodo non ne vedo. E allora interrompiamo un attimo il filone che poi andremo a riprendere più avanti della cronaca, dell'attualità, delle ripercussioni della guerra in Veneto e della questione economica, delle difficoltà, del carbollete, del rincaro dei prezzi, insomma di tutto quello che vi stiamo raccontando da giorni perché sono centinaia le vostre segnalazioni, sono centinaia le vostre mail che ci arrivano. La voce dei cittadini, la voce dei nostri telespettatori troverà sempre spazio qui da noi a Focus TG. Dicevamo, tiriamo adesso un attimo un sospiro e parliamo di un'altra notizia di attualità molto più leggera anche per stemperare un attimino la situazione e la tensione di tante testimonianze, di questi racconti che vi stiamo proponendo perché oggi è martedì grasso, oggi è martedì grasso, quindi insomma il carnevale per quanto in forma ridotta è comunque una festa che porta con sé un po' di allegria e sicuramente ne abbiamo bisogno. Vediamo in attesa di collegarci con Venezia, con il nostro collega Federico Fusetti proprio che ci parlerà del carnevale forse più iconico indubbiamente, quello della città lagunare in attesa appunto di andare a Venezia. Vediamo come Treviso ha affrontato questi giorni di festa. Oggi previsto il gran finale. Nell'ultimo weekend, pensate, 200.000 persone hanno fatto visita alla città di Treviso, al centro storico proprio per festeggiare in maschera. Vediamo. Il carnevale porta in città 200.000 persone pienone nel weekend appena trascorso i numeri da record per un evento sul quale la città ha puntato molto e che si concluderà domani con i festeggiamenti del martedì grasso. Solo nel weekend sono state conteggiate 200.000 persone. È molto importante questo carnevale per tranquillizzare le famiglie, per dare un sorriso ai bambini nonostante le brutte notizie. E cosa molto importante, quest'anno abbiamo voluto anche il ritorno dei carri. Certo sono carri statici, ma perché è molto importante? Per far lavorare tutte le maestranze, che sono veramente tante, che sono dietro gli eventi. Polizia e protezione civili a gestire il flusso di persone arrivate in città nel giorno della Domenica Ecologica. Domani a partire delle 14, eventi diffusi per il gran finale con i carri in Piazzetta Aldomoro, Borgomazzini e Piazza Borsa, gli artisti di strada per le vie del centro, il villaggio delle fiabe sotto la loggia Incantata e la Mongolfiera in Piazza dei Signori. Ancora previsto il possesso del Green Pass per partecipare all'evento. E domani pomeriggio potrebbe anche iniziare a prendere forma il nuovo City Pass, con l'incontro già in programma tra l'assessore Lavinia Colonna Preti e la direttrice della collezione Salce. Come abbiamo già annunciato, un ticket unico che darà accesso alle sedi della collezione Salce, che ricordiamo è ministeriale MIVAT, e ai musei civici di Treviso, proprio per offrire una scontistica importante anche ai visitatori che può venire a Treviso. Sta per accadere qualcosa di epocale, perché forse riusciremo ad avere un unico gestore, un unico sistema di bigliettazione, e quindi di gestione anche proprio della fotturazione tra i nostri musei e la Salce. Non è mascherato, ma lo vedo collegato con noi da Venezia, il nostro collega Federico Fusetti. Federico, intanto, buongiorno. Ti dico che nell'ultimo servizio che abbiamo lanciato, prima di collegarci adesso con te, abbiamo raccontato di un Treviso che ha avuto 200 mila turisti, visitatori, insomma, per questo weekend di carnevale. dicevo, non ti vedo in maschera, ma raccontaci da Venezia come vanno le cose. Buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori. Sono smascherato, semmai proprio perché si può stare senza mascherina, quindi ne abbiamo subito approfittato, anche perché non ci sono assembramenti particolari. Beh, hai dato una cifra che è molto simile a quella registrata a Venezia nel fine settimana. Noi siamo, beh, l'avrete riconosciuta, nell'inquadratura di Paola Barvato, la scalinata della stazione di Venezia Santa Lucia, da qui arrivano, stanno arrivando i turisti per il carnevale. 200 mila sono i turisti che più o meno hanno affollato Venezia anche nello scorso weekend. Oggi è l'ultimo giorno di carnevale, dopo 18 giorni, iniziato il 12 febbraio, il periodo di carnevale, oggi è martedì grasso. La prima sensazione è quella di una Venezia con molti turisti, ma non moltissimi. E soprattutto le maschere sono poche, soprattutto qualche ragazzino, quindi più giovani, anche qualche adulto. Però chi arriva in treno dalle città del Veneto arriva senza maschera, quindi probabilmente è più interessato al sole, a fare due passi per la città, ma non necessariamente con il costume. Rimane, insomma, il motivo dominante, che è quello del carnevale diffuso, cioè nessun assembramento in Piazza San Marco, o comunque il meno possibile, e tanti spettacoli disseminati per la città, dagli spettacoli sull'acqua all'arsenale, fino al concerto di questa sera alla Fenice, e poi tanti artisti di strada disseminati tra le calli. Non ci sono assembramenti, quindi anche quasi nessuno indossa giustamente, perché le mascherine a questo punto si possono tenere in tasca, pronti ad usarle quando ce n'è bisogno, e tanti ragazzini, quello sì, tante famiglie che sono qui. L'altro tema della giornata è quello dei controlli fatti dalla Guardia di Finanza nei giorni scorsi alle feste più esclusive della città, per verificare sia la regolarità dei servizi di catering, quindi di ristorazione, sia anche per quanto riguarda l'inquadramento dei lavoratori. Alcuni lavoratori in nero sono stati trovati, significa magari assunti, ma pagati in nero, quindi con moneta non tracciabile. E poi una decina, anche forse di più, posizioni da verificare proprio per quanto riguarda la regolarità dei contratti di lavoro. Stanno passando adesso alcuni ragazzi in maschera, dicevo, ce n'è, ma non tantissimi. E quindi il tema, ecco, diciamo, del lavoro e della regolarità del lavoro anche durante il periodo di carnevale è all'ordine del giorno, ma insomma senza eccessive, diciamo, criticità, Alex. Federico, grazie mille per il tuo collegamento, grazie per averci raccontato di come Venezia sta vivendo queste ultime ore di carnevale. Noi abbiamo un break pubblicitario, quindi dobbiamo rientrare in studio. Grazie a Federico Fusetti. Piccolo stop and go. Fra due minuti torniamo per tutte le altre notizie. Fra poco. 13.07, ben ritrovati a Focus TG. Insomma, siete sempre più numerosi quelli che ci guardano, quelli che scelgono la nostra informazione. E allora, insomma, avrete notato come oggi, la puntata di oggi è davvero una puntata estremamente dinamica. Tanti collegamenti dal territorio e sarà sempre così perché Focus TG ha una mission, quella di portare a casa vostra le notizie del Veneto dal Veneto. E adesso, dopo essere stati a Venezia e aver fatto il punto della situazione carnevale e non solo con il nostro collega Federico Fusetti, adesso ci spostiamo a Bassano del Grappa dove c'è la nostra collega Erinda Chitezza. Bassano che ha festeggiato in tono minore, diciamo, il carnevale. Però questo martedì grasso, Erinda, come è stato percepito? Com'è? Lo stanno vivendo i bassanesi? Ecco, ciao Alex, buongiorno. Sì, hai detto bene, oggi è martedì grasso e quindi la giornata che conclude i festeggiamenti del carnevale. Un carnevale che diversamente probabilmente da Venezia, dove eravamo prima, è partito in sordina e finisce altrettanto in sordina, qui a Bassano. Diciamo che ci sono... Ho avuto modo di intervistare alcuni turisti in visita in città, non mascherati, la maggior parte di loro, e tanti bambini in giro, turisti provenienti dall'Alto Piano di Asiago, anche dal Trentino, ma addirittura da Palermo. C'erano dei nonni che erano venuti a trovare la loro famiglia, qui a Bassano. E hanno detto che è una tradizione, il carnevale più sentito qui in Veneto, rispetto al sud Italia. Ecco, un carnevale che ovviamente, non essendoci stati i carri, non è stato sentito molto. Infatti ho avuto modo anche di intervistare qualcuno, qualche autoctono, i quali infatti hanno lamentato il fatto che non ci siano stati i carri, che potevano essere anche fermi, però sarebbe stata un'occasione per dare la possibilità ai bambini di festeggiare, perché poi il carnevale, ricordiamo, è specialmente per i bambini e ci prepara anche alla quaresima, scusami. Quindi questo è un po' un resoconto generale che poi vedremo maggiormente nei nostri notiziari di questa sera. Passo la linea a te. E allora, Erinda, io ti ringrazio per la tua testimonianza, ti lasciamo al tuo lavoro, proprio perché hai raccolto tante voci, che sentiremo nelle edizioni serali dedicate all'informazione di Rete Veneta. Grazie a Erinda Chitezza, noi rientriamo a Bassano per spostarci a Tezze sul Brenta. Perché? Perché ieri era la giornata mondiale delle malattie rare, la quattordicesima edizione, giornata in cui medici, ricercatori, pazienti cercano di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa tematica. Noi abbiamo raccolto una testimonianza molto toccante, molto interessante, quella di Sammy Basso, che è, lo sappiamo, dottore, ricercatore affetto da progeria. E allora adesso vediamo tutto nel prossimo servizio. Il 28 febbraio è la giornata mondiale delle malattie rare e patologie che vanno a colpire una persona ogni 30.000. In Italia sono 2 milioni gli individui affetti da malattie rara, il 70% di questi in età pediatrica. Vengono chiamate malattie orfane perché ancora la strada per la loro cura è lunghissima, come conferma il dottor Sammy Basso, ricercatore, portatore di progeria, che sta basando tutto il suo lavoro sullo studio della cura e trattamento di queste patologie. Il punto è che le malattie rare sono molto diverse tra di loro. Dunque, i vari approcci utilizzati per studiarle, per curarle, per trattarle, possono essere veramente molto diverse. E ci si lavora, ci si lavora tanto, però serve una giornata che poi è simbolica, no? proprio per far capire anche l'importanza di studiare queste malattie, perché hanno il diritto di essere studiate. La scienza e la medicina vanno avanti in maniera incredibile, stanno facendo passi da gigante. La ricerca, nonostante possa contare su grandi menti di Chiara Basso, manca di fondi. E servono molti fondi, sia appunto perché tutti hanno il diritto di avere una salute e di vivere la vita al meglio, ma anche perché la ricerca scientifica, in ogni caso, è motore per il paese, è un motore di innovazione e veramente a volte da malattie molto rare, su cui, insomma, si pensa che coinvolgano veramente pochi casi, si fanno scoperte che poi hanno ripercussioni a 360 gradi. Proprio nella progeria, per esempio, noi siamo in grado di andare esattamente dove vogliamo nel DNA e modificarlo. Questo fa sì che una malattia data da una mutazione può essere a livello teorico curata. Tu che messaggio ti senti di lanciare? Le malattie rare molto spesso non vengono ancora definite malattie orfane, proprio per la poca attenzione che c'è verso di queste. Il consiglio è quello di fare rete, di fare network. Quando non è più solo una voce a parlare, ma sono più di una, le cose possono cambiare. Ci vuole pazienza, ci vuole impegno, ci vuole a volte anche tanta sofferenza, nel senso che non si arriva subito all'obiettivo, ma ce la dobbiamo fare. E vi stiamo raccontando dei vari settori economici in sofferenza per il rincaro dei prezzi, per il caro bollette. Ebbene, ci spostiamo adesso nella zona di Pove del Grappa, ma non solo, per parlare dei produttori di olio, perché i rincari colpiscono anche questo settore, il settore olivicolo, olivicolo e oleario della Pedemontana. I rincari dell'energia, il costo delle materie prime e ora, i venti di guerra che soffiano alle porte dell'Europa, stanno mettendo in seria difficoltà l'agricoltura. Anche il settore olivicolo e oleario, fiore all'occhiello della Pedemontana Bassanese, sta vivendo giorni difficili. Il settore agricolo in particolare, anche il settore olivicolo, stanno vivendo un periodo brutto, stanno aumentando i costi, non si trovano con cimi, si trovano con difficoltà, c'è un aumento che si parla del 170%, è aumentato il costo del gasolio, della benzina, per cui per i produttori diventa un momento delicato. Resta da capire quali siano le prospettive per la produzione di quest'anno, dopo il calo quantitativo registrato nell'ultima annata olivicola. L'inverno è stato abite, non sono state gelate, ha fatto il suo freddo giusto, per cui le piante sono pronte, riposate, perché l'anno scorso non l'hanno prodotto, e quindi si spera che quest'anno sia una nata che dà soddisfazione, però la conferma si avrà dopo la fioritura, ma soprattutto anche dopo gli attacchi della mosca dell'estate. In ogni caso, i coltivatori e i produttori del territorio sono pronti ad affrontare le sfide di questa ennesima congiuntura negativa. Si sono raggiunti ottimi livelli, sia nella produzione, nella lavorazione dell'olio, nella raccolta delle olive, che si fa precoce, quindi per avere un ottimo olio, e soprattutto tutti i frantoi del territorio nostro si sono adeguate alle nuove tecnologie per ottenere il massimo della resa e dare oli di eccellenza. E anche il settore alberghiero chiaramente risente della situazione, anche se in questo caso c'è, come si suol dire, una speranza, una sensazione concreta di ripresa, di ripartenza in vista dell'estate. Forse un po' di luce in fondo al tunnel. Il turismo infatti piano piano sta riprendendo colore. E così anche il settore alberghiero che si prepara ad un'estate con sempre più prenotazioni sul taccuino. Il turismo in questo momento è ancora fermo. Ci sono questi timidi segnali di ripresa che diventano più forti nei mesi più estivi. Abbiamo già un sacco di prenotazioni, quindi diciamo che sembra che finalmente questa cosa sia passata. Ma nonostante si intraveda il sereno all'orizzonte il settore vive ancora nell'ombra dell'incertezza. La nostra paura è che come è successo già più di qualche volta all'improvviso arrivi un qualcosa che ci blocchi ancora una volta. E a questo si aggiunge anche il momento storico che stiamo vivendo oltre confine. Noi 365 giorni l'anno viviamo di clientela business quindi persone che hanno a che fare con le aziende e il nostro territorio a tante aziende che lavorano sia con la Russia che con l'Ucraina quindi credo proprio di sì che possa dare qualche rallentamento credo non così significativo però sicuramente sì. E cosa ne pensano invece i cittadini di questo continuo stilicidio di questo aumento dei costi? Ebbene siamo andati a chiederlo proprio a loro in questo servizio raccogliamo le loro voci sono in tanti quelli che si dicono pronti anche a cambiare le proprie abitudini di vita. Meno luci possibile riscaldare meno e dopo noi non consumiamo neanche tanto cercare di far andare la lavatrice meno e la lavastoviglie lo stesso o arrangiarsi un po'. Di sera ci scaldiamo a legna che è bello scaldarsi a legna. Io ti dico ho una malattia rara e quindi sono costretta a rinunciare a tante cose perché mi devo comprare le medicine anche quando faccio la lavastoviglie cerco di farla appunto a pieno carico e le lavatrici le faccio alla sera e anche la carica del cellulare cerco di non tenerla sempre attaccata ma l'attacco alla spina solo quando devo fare la carica del cellulare e spengo anche il computer quando magari è acceso perché appunto per evito che ci siano delle dispersioni di corrente abbiamo quattro persone in casa che utilizzano tutti quanti i loro device computer e quant'altro soprattutto anche per fare la didattica a distanza quando è necessario credo che sarà un po' staccarsi da certi utilizzi si comincia un po' a rispremiare la luce è aperta così che la lasciavi tranquillamente adesso ci pensi comincia a spegnere capisci che c'è un costo che non è più quello di prima poi ci sono piccoli accorgimenti giornalieri tengo tutto spento a casa gelata quello che fanno tutti soprattutto il bagno caldo e la cucina cioè quando torno a casa una volta stavo al caldo adesso quando torno a casa sono con i pile e tutto quanto è dura è duretta affrontare comunque queste spese perché effettivamente è raddoppiato ho visto proprio un raddoppio e chiaramente non è facile andare avanti comincia ad essere dura anche perché anche noi siamo in una situazione un po' così io sono in disoccupazione e quindi ce la faremo e oggi oggi è un giorno importante nella tappa il percorso di avvicinamento alla fine dello stato di emergenza al ritorno alla completa normalità è chiaro che parlare adesso di questo condizionati da ciò che sta succedendo sullo scacchiere internazionale ciò che sta succedendo in Ucraina in Russia è difficile perde anche un po' di significato però comunque per quello che riguarda le tematiche relative al covid allentamento delle misure di sicurezza sono informazioni che noi diamo perché insomma vanno date anche ripeto se è difficile parlare con serenità con spensieratezza di altro di ritorno alla normalità in un momento storico in cui effettivamente proprio la normalità è messa di nuovo a dura prova fatto sta che primo marzo oggi finisce la quarantena oggi c'è lo stop alla quarantena dei viaggiatori che arrivano in Italia dai paesi extra Unione Europea dal primo marzo infatti valgono le stesse regole che valgono per i viaggiatori della comunità europea quindi basteranno per entrare in Italia le stesse condizioni di green pass base cioè certificato di vaccinazione di guarigione o un test negativo sempre da oggi scatterà l'aumento della capienza di stadi e di palazzetti rispettivamente al 75 e al 60 per cento riepiloghiamo insieme anche le prossime tappe di avvicinamento a questa fine dello stato di emergenza perché dal 10 marzo via libera agli snack al cinema e allo stadio sarà infatti nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali da concerto al cinema e nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo nello stesso giorno quindi sempre dal 10 di marzo scatterà anche il ritorno della possibilità di far visita ai propri familiari ricoverati in ospedale per un tempo di 45 minuti al giorno il 31 marzo è la data insomma cerchiata in rosso sul calendario perché è la data in cui terminerà ufficialmente lo stato di emergenza e quindi dal primo di aprile lo ricordiamo primo giorno di post emergenza le scuole resteranno sempre aperte per tutti addio alle quarantene da contatto in classe non sarà più obbligatorio indossare la mascherina FFP2 sempre dal primo di aprile cesserà ovunque l'obbligo di mascherine all'aperto e inoltre non sarà più in vigore il sistema dei colori delle regioni infine dal 15 giugno scatterà l'obbligo scadrà l'obbligo di green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50 e anche l'obbligo di vaccinazione per gli over 50 questo dal 15 di giugno quindi siamo abbiamo cercato di chiarire bene di identificare bene quelle che sono le prossime date da ricordarci e da ricordare adesso parliamo di cronaca parliamo di stretta attualità cittadina ci spostiamo a Vicenza perché continuano i controlli e continuano le operazioni di contrasto alla criminalità vediamo fine settimana di controlli straordinari disposti dal questore di Vicenza Paolo Sartori contro la microcriminalità lo spaccio di droga i furti e l'immigrazione clandestina e poi per tenere sotto controllo l'ordine pubblico controlli fatti giorno e notte grazie a 35 uomini appartenenti a polizia carabinieri guardia di finanza polizia locale le zone sono quelle solite campo marzio giardini salvi e le vie limitrofe nonché le vie del centro storico più precisamente contra pescherie vecchie piazza Garibaldi speciale attenzione è stata riservata a quelle aree dove solitamente si registra la presenza di spacciatori in particolare il quartiere del quadrilatero nello specifico è stato effettuato ad esempio un controllo all'interno di un fabbricato in disuso in via battaglione va all'eugra già segnalato dai cittadini per la presenza di persone senza fissa dimora nel degrado più totale all'interno sono stati trovati otto cittadini stranieri provenienti da Senegal e Gambia in precarie condizioni igieniche tutti con precedenti penali per reati collegati per lo più allo spaccio di droga e sette dei quali non in regola col permesso di soggiorno tutti sono stati accompagnati negli uffici di Viale Mazzini per l'identificazione e la notifica degli ordini di allontanamento dal territorio nazionale emessi dal questore ai proprietari degli edifici occupati invece è stato intimato di installare sistemi anti-intrusione affinché non vengano più utilizzati per compiere attività illegali controlli mirati sono stati inoltre effettuati durante la notte presso discoteche e locali notturni in bar e locali pubblici oggetto di segnalazione e lamentele da parte dei cittadini in totale nel fine settimana sono state identificate 412 persone di cui 98 straniere e 53 con precedenti penali al termine la questura ha emesso in totale 15 ordini di allontanarsi dall'Italia entro 7 giorni e 11 fogli di via obbligatori dal comune di Vicenza con il divieto di tornare in città per 3 anni ad esempio una 31enne arrivata da Milano e sorpresa a delinquere a Vicenza attività quella del controllo degli edifici abbandonati ma anche delle fermate degli autobus vicino alle scuole considerate di fondamentale importanza dalla questura restiamo a Vicenza perché questi sono gli ultimi giorni in attesa della prova d'esame finale per Vicenza capitale della cultura 2024 vediamo ero orgogliosa del dossier e del claim che avevamo presentato però questo è il sigillo che effettivamente il primo passo è stato fatto adesso ci prepariamo per l'audizione che sarà il 4 marzo siamo l'ultima delle 10 città in qualche modo selezionate a essere sentite e stiamo lavorando con qualche effetto speciale è arrivata dunque la settimana della prova che potrebbe sancire la candidata Vicenza a capitale della cultura 2024 questi sono gli ultimi giorni per mettere a punto gli effetti speciali ma i contenuti sono assolutamente top secret dove puntare per aggiudicarsi il prestigioso titolo? sicuramente puntiamo sul palladio ma l'idea è quella di far capire che quella Vicenza così vivace così ricca anche così in qualche modo ribelle del 500 che si è fatta conoscere per queste sue caratteristiche esiste ancora oggi magari in una chiave più contemporanea e moderna devo dire che l'affetto però dei cittadini e anche la consapevolezza e l'orgoglio in questi giorni è straordinaria e io soprattutto mi auguro che rimanga perché la cultura ha bisogno di essere vissuta dalle persone e proprio per questo la mobilitazione delle persone ha riguardato tutte le categorie economiche non solo della città di Vicenza ma dell'intera provincia tutti i comuni hanno sostenuto il progetto collettivo e ora l'appello ai cittadini a fare il tifo per la vittoria l'audizione dura un'ora ci ha un po' spiazzato perché per la prima volta l'audizione intanto è pubblica quindi Vicentini collegatevi daremo il link perché vogliamo vedervi in tanti a sostenerci tutti assieme dura è divisa in due parti una prima mezz'ora di libertà cioè noi presentiamo il nostro progetto e stiamo scegliendo le location il tema e quindi dobbiamo costruire un vero e proprio film così in diretta da presentare alla commissione e poi l'altra mezz'ora invece è di domande che la commissione presenterà a quelli che noi individueremo i referenti pronti a rispondere e chiudiamo questa edizione di Focus TG restando proprio a Vicenza perché c'è necessità di potenziare la linea ferroviaria Vicenza-Schio e la provincia di Vicenza ha coinvolto i parlamentari veneti per ottenere i fondi necessari l'elettrificazione l'elettrificazione l'eliminazione di passaggi a livello sono un tema che accomuna provincia di Vicenza le amministrazioni comunali interessati dalla tratta e tutte le categorie economiche questi i punti in sintesi su cui si sono confrontati i parlamentari veneti coinvolti dalla provincia di Vicenza per assicurare i finanziamenti necessari al potenziamento della linea ferroviaria a Vicenza-Schio il vicentino dice sì al potenziamento della linea ferroviaria lo hanno rivadito a gran voce tutti i rappresentanti del territorio che hanno risposto all'appello della provincia e che si sono ritrovati online questa mattina per contarsi e programmare un'azione comune la necessità di fare squadra e arrivare a trasformare le cifre che sono state scritte nel documento di programmazione del ministero in risorse reali è un invito che è stato colto dai parlamentari con i quali ci si è già dato anche un ordine di lavoro nel quale già la settimana prossima loro si incontreranno per individuare insieme un'azione condivisa da fare nei confronti del ministero e la disponibilità che è stata espressa alla rappresentanza di questo territorio di poter dialogare direttamente con il ministero l'obiettivo condiviso è di rendere reale la cifra di 75 milioni di euro inseriti nella programmazione ministeriale che ad oggi risultano ancora scritti sulla carta queste risorse non contemplano la sistemazione del passaggio a livello di Anconetta che necessita per la sua particolarità di uno stanziamento mirato ma sono sufficienti come primo stanziamento per iniziare tutta la fase di programmazione reale e di elettrificazione Walter Orsi si dice soddisfatto per questo primo incontro in qualità di consigliere delegato devo dirmi molto soddisfatto del percorso che si è intrapreso perché sta dimostrando una grande volontà di raggiungere gli obiettivi questo territorio in questa forma aggregata ha messo in campo e sta mettendo in campo varie forze trasversali fra di loro varie rappresentanze di categoria e amministrative politiche nell'ottica di utilizzare e inserire tutte le tessere al posto giusto per arrivare alla costituzione effettiva di quel mosaico che è la rigenerazione della tratta ferroviaria è davvero tutto per oggi io vi do appuntamento a domani puntuali alle ore 12 con un'altra edizione di Focus TG per tutte le notizie del Veneto dal Veneto adesso vi auguro buon pranzo buon pomeriggio a domani